Benvenuti nel mondo degli orologi Beda & Co. Beda & Co. è un marchio giovane, ma con una grande esperienza nel campo dell'orologeria di lusso. Fondato nel 1996 a Ginevra da Simone Beda e suo figlio Christian, il brand ha saputo guadagnarsi rapidamente una reputazione di eccellenza nel settore. Grazie alla vasta conoscenza e all'esperienza maturata nel campo dell'alta orologeria, Simone Beda ha saputo trasformare gli orologi Beda in veri e propri oggetti del desiderio, ambiti da molti membri dell'alta società. L'azienda ha sempre messo al primo posto la qualità dei propri prodotti, utilizzando solo i materiali migliori e le tecniche di lavorazione più avanzate. Questo ha permesso di creare orologi dal design elegante e raffinato, che garantiscono al tempo stesso precisione e affidabilità. Ma non è solo la bellezza degli orologi Beda a farne un marchio di successo. L'azienda, infatti, ha saputo creare un'esperienza d'acquisto unica, grazie alla personalizzazione degli orologi in base alle esigenze del cliente. Inoltre, Beda Eco ha sempre prestato molta attenzione alla sostenibilità ambientale, utilizzando solo materiali ecocompatibili e riducendo al minimo l'impatto ambientale del proprio processo produttivo. Insomma, Beda Eco è il marchio di orologi di lusso che non delude mai le aspettative dei propri clienti, grazie alla qualità dei propri prodotti, all'attenzione per la sostenibilità ambientale. Se siete alla ricerca di un orologio esclusivo e di gran classe, Beda Eco è la scelta perfetta per voi. Grazie a tutti.